Arrivano direttamente da Prefettura e Sindaco Virigiardi le raccomandazioni e le spiegazioni della simulazione di incidente che sabato pomeriggio coinvolgerà lo stabilimento della Poli in zona gruccia. Nulla sarà reale ma è necessario che la cittadinanza ne abbia consapevolezza. Testeremo il piano di emergenza esterno. In realtà il piano di emergenza esterno è un documento nel quale appunto sono indicate tutte le procedure che verranno poste in essere in caso di incidente rilevante, in caso cioè di incidente che può avere degli effetti all'esterno delle industrie appunto a rischio rilevante. In questo caso quindi faremo questa esercitazione per verificare se tutte le procedure descritte nel piano approvato dalla Prefettura nel 2015 in realtà possono funzionare e quindi per migliorare eventualmente il piano. Saranno emanati dei segnali acustici, ci saranno le sirene dei vigili del fuoco del 118 che arriveranno sul posto, ci saranno sicuramente delle azioni compreso il fumogeno rosso che sarà attivato per simulare questa perdita di gas. Nel frattempo saranno chiuse virtualmente le strade predisponendo dei posti di blocco che però non saranno attivi ma faranno scorrere il traffico perché comunque dovremo testare il tempo di reazione anche delle operazioni e quindi vedere in quanto tempo riusciremo ad attivare i posti che impediscono l'accesso alle aree.